Hai deciso di intraprendere un percorso di formazione musicale, quindi ti sei iscritto a delle lezioni private o da una scuola e quindi il tuo insegnante ti ha fornito un piano di studi. Ma ad un certo punto del tuo cammino cominci a sentire un calo di motivazione, cominci a perdere lo stimolo, cominci a rallentare la frequenza delle tue sessioni di studio e cominci anche a temere il blocco. È successo anche a te? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. E se è successo anche a te quello che ti ho descritto poco fa, allora forse senti il bisogno di una nuova spinta, una nuova motivazione per non fermarti e per ripartire come prima e anche meglio di prima. Ecco cosa potresti fare per automotivarti a rimetterti in moto. 1. Pensa a che cosa potrebbe succederti in futuro se oggi non fai quello che dovresti fare. Pensa a quali conseguenze andrai incontro anche solo fra un anno se oggi deciderai di non fare la sessione di studio programmata o se stai rallentando o addirittura se stai pensando di fermarti. 2. Pensa alle conseguenze economiche, per esempio al fatto che magari hai già pagato le lezioni private o la rata della scuola. 3. Pensa alle conseguenze che avrai sulla tua autostima, per il fatto che ti stai dicendo che hai perso la tua coerenza con l'impegno preso e che quindi non sei una persona affidabile, uno che non mantiene la parola data. 4. Pensa che gli obiettivi e risultati che ti hai riprefisso stanno svanendo nel nulla, quindi non acquisirai o non migliorerai la tua tecnica strumentale, non incrementerai la tua cultura musicale e non sarai in grado di eseguire i brani, il repertorio e gli stili che ti eri prefisso di imparare. 5. Immagina a che cosa dovrai rinunciare in conseguenza del fatto che oggi hai deciso di rallentare o addirittura stai pensando seriamente di fermarti. Ad esempio, dovrai rinunciare alla possibilità di suonare in una vera band o portare a termine quel repertorio che avevi programmato di imparare. 6. Fissa un obiettivo a breve, medio e lungo termine. Scomponi in sotto obiettivi semplificati quelli che ti sembrano troppo complicati da raggiungere. Ad esempio, se non riesci a suonare subito un brano o una partitura, scomponilo nelle sezioni che lo compongono. Schematizza le difficoltà tecniche e studia bene quei passaggi. In pratica, isola quelle difficoltà e riducile a step semplificati. Fai la stessa cosa con gli argomenti di tecnica che stai studiando. 7. Applica il sistema TOTE, test, operazione, test, exit. Il TOTE funziona così. Fai un test, fai l'operazione, rifai il test. Se il risultato è negativo, rifai l'operazione e riparti da capo. Rifai il test, operazione, test, non funziona, operazione numero due, azione numero due. E così via, fino a che il test dà risultato positivo e quindi vai all'uscita, cioè hai raggiunto l'obiettivo. Facciamo un esempio pratico. Devo imparare un brano, lo suono, mi registro, lo riascolto, quindi questo è il test. Non funziona, faccio un'operazione, cioè faccio un'azione, lo risuono, lo riregistro e rifaccio il test, cioè lo riascolto. Non funziona, miglioro le parti, schematizzo, faccio quello che ho detto prima. Quindi riregistro il brano, faccio il test, lo riascolto, se funziona finalmente chiudo questo brano e passo al successivo. Altrimenti continuo a girare fino a che il test mi dà risultato positivo, cioè sono io a decidere che finalmente funziona e a quel punto esco. In questo modo svilupperai determinazione nel conseguimento dei risultati prefissati. In conclusione voglio ricordarti che la cosa più importante non è il risultato, ma è il viaggio che compi per raggiungere quel risultato. Per cui goditi il viaggio. Fammi sapere cosa ne pensi scrivendo la tua opinione sotto nei commenti e se ritieni che questo video possa essere utile a qualcuno di tua conoscenza, condividilo attraverso i tuoi social. Ciao e ci vediamo al prossimo video.